Cari amici, è con grande piacere che vi presento una nuova eccellente pubblicazione sull'antipapato in corso. Abbiamo già parlato dei libri del professor Carlo Maria Pace, del dottor Sandro Pomiato, di Don Fernando Cornet e tutti i libri che parlano di sede impedita, di antipapa, eccetera. Adesso, qualche tempo fa, è uscito un nuovo libro dal titolo L'antipapa, il primo decennio di un apostata sul soglio di Pietro. Ecco, un titolo chiaro, assertivo, senza mezze misure, scritto dal giornalista, collega Corrado Galimberti, è uscito da poche settimane per i tipi della Arca Edizione di Milano, e ripercorre e ricostruisce il modus operandi e i passaggi fondamentali dell'uomo noto col nome di Papa Francesco, ecco aggiungerei il buon Papa Francesco, mettendone in luce le contraddizioni rivelando gesti, tesi e decisioni platealmente incompatibili con il deposito un fide del cattolicesimo. Dall'elezione invalida fino al sinodo sulla sinodalità. Nelle 344 pagine del testo sono svelati visione del mondo e piani di un uomo che è tutto forché un Papa, proprio da un punto di vista canonico, non è una questione di simpatia che ci piace, non ci piace, non è il Papa, non è il Papa perché, sapete bene, Benedetto non era abdicatario. E quindi questo Bergoglio percorrendo una strada opposta, ecco mi piace questa idea di Corrado Galimberti, quello che sta facendo Bergoglio è opposto alla strada intrapresa da Benedetto XVI, perché è una figura escatologica, non solo è antipapa dal punto di vista canonico, ma è anche qualcosa di più, perché costituisce l'esatto opposto di quello che era un super Papa, come Benedetto XVI. E quindi Bergoglio non perde occasione per cercare di affogare la Chiesa Cattolica nelle acque torbide del mondo modernista, teso a spazzare ogni afflato con il trascendente e il divino. Per i sacerdoti che non si adeguano, quello che i mass media convenzionali non perdono occasioni per dipingere come il misericordioso riserva in realtà minacce, visite apostoliche, sospensioni a divinis, scomuniche e riduzione allo stato laicale. Naturalmente tutto invalido, come sapete. Quindi dopo il codice Ratzinger, anche Corrado Galimberti sottolinea che non c'è stata nessuna rinuncia al monus petrin, da parte di Josef Ratzinger costretto a ritirarsi in sede impedita. Benedetto è il vero, unico e ultimo pontefice della Chiesa Cattolica, ma non solo. Il libro rivela pure i piani della mafia di San Gallo, le ingerenze della massoneria ecclesiastica e quelle dell'amministrazione di potenze straniere. Stati uniti in primis per togliere di mezzo Papa Benedetto XVI, ovvero il proprio Catecon, in viso ai fautori del nuovo ordine mondiale, di cui la neo-chiesa post-cattolica, sempre più simile a una comune ONG di stampo globalista, appare come un tassello fondamentale. Le perle eretiche dell'Argentino lo testimoniano, da Gesù fa un po' lo scemo, al whisky vera acqua santa, dall'interonizzazione in Vaticano di una divinità pagana, la statua dedicata a Martin Lutero, dalla negazione dell'inferno al definire delinquenti sacerdoti che non concedono l'assoluzione. Questo volume dimostra che il soglio di Pietro è stato occupato da chi, di fatto, mira alla realizzazione di una religione universale fai da te, fatta ad uso e consumo di chi obbedisce più ai propri desideri e voglie che ha la volontà di Cristo. Inserito nella collana Il Pensiero Forte, curata da Diego Fusaro, che è pure scritto la prefazione dell'antipava, il libro di Galimberti esprime bene come Bergoglio rappresenti oggi, nella sua distorsione del messaggio cristiano, uno dei maggiori rappresentanti della cultura del relativismo nichilistico imperante, contro la quale occorre risvegliare le coscienze e saper pensare altrimenti. Bene, io vi invito ad acquistare questo libro del collega Galimberti, che saluto, appunto mi fa molto piacere sponsorizzare altre pubblicazioni che parlano sempre della stessa questione perché qui non ci sono rivalità, non ci sono discorsi di territorio, di orticello, ah ma no, ma poi se faccio la pubblicità a un concorrente eccetera, io sono felicissimo quando il professor Brunoni fa le presentazioni con Nonmi Nutella, con Galimberti, senza di me, con me eccetera, la cosa importante, importantissima è vincere. Grazie, un caro saluto e acquistate il volume di Corrado Galimberti.